vi racconteremo per filo e per segno quali sono le caratteristiche che devono avere le attrezzature e gli artificiali e ovviamente qualche trucco e qualche consiglio perché anche voi possiate dedicarvi a questa tecnica di pesca che sta letteralmente impazzando in tutta italia tutti a pesca passione artificiale con matteo de falco 2015 dal 13 gennaio ogni martedì alle 21 su pesca canale 236